Quasi un chilogrammo tra cocaina e ascisce recuperati dai carabinieri per il mercato dello spaccio in Molise, in cella finisce una coppia di incensurato di ritorno da Foggia. Ipotesi di turbativa d'asta in concorso, quattro persone indagate dalla procura di Viale Elena per l'affidamento del servizio di sanificazione di ambulanze e ospedali. Ha chiuso a Milano l'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo, per lo stand molisano si iniziano a fare i primi bilanci della manifestazione. Pareggio senza reti a Campobasso nell'andata di Coppa Italia per le formazioni di calcio di eccellenza, il San Buceto esce in denne dal Selvapiana. Un cordiale saluto dalla redazione giornalistica di TLT. Foggia e provincia sono canali di approvvigionamento della droga in Molise, i carabinieri fermano e traggono in arresto una coppia di incensurati. Si trovano reclusi nei penitenziari di Campobasso e Benevento, un uomo e una donna, incensurati, finiti nelle maglie dei carabinieri del comando di Via Mazzini a Campobasso, per il possesso ai fini dello spaccio di poco meno un chilogrammo tra cocaina e hashish, quantitativo recuperato all'interno dell'auto noleggiata per il contesto a Foggia. La coppia di insospettabili è stata fermata in strada al ritorno dal capoluogo della Daunia, per un controllo sulla fondovalle Tappino. Terminate le perquisizioni, i militari dell'arma si sono trovati con in mano quasi un chilo di stupefacente e una somma di denario di dubbia e provenienza, anch'essa sottoposta al sequestro. L'attività dei carabinieri terminava con il ritiro degli stupefacenti per le analisi di laboratorio e le manette e polsi dalla coppia. Un duro colpo al traffico di droga proveniente dalla vicina Puglia, canale privilegiato dagli spacciatori per l'approvvigionamento nel capoluogo molisano in provincia. Due dirigenti dell'azienda sanitaria regionale e due imprenditori titolari dell'attività ITS rinviati a giudizio, turbativa d'asta in concorso, il reato ipotizzato. I fatti riguardano l'affidamento del servizio di sanificazione di ospedali pubblici e ambulanze per tre mesi durante la pandemia da Covid. La società con sede a Campobasso ve ha presentato l'offerta più bassa per svolgere il servizio, ma nel tempo i compensi sono aumentati notevolmente per mezzo di provvedimenti dirigenziali. Ad incarico scaduto e a seguito di una nuova gara, l'ITS è risultata nuovamente vincitrice. Nel merito della questione entra il gruppo politico alla regione del Movimento 5 Stelle. Il gruppo aggiunge come gli appalti nel settore sanità prorogati dall'ASREM, senza una regolare gara d'appalto, siano passati da 72 mila euro del 2020 a 5 milioni due anni più tardi. Il rilancio della sanità pubblica deve passare per una trasparente gestione delle risorse economiche, un principio che negli anni è sembrato venire meno e conclude il Movimento 5 Stelle. La conferma arriva dalla conclusione delle indagini della magistratura. Cambiamo argomento. Continua senza sosta la lotta all'uso di alcol e stupefacenti nella provincia di Isernia. Intensa l'attività dell'arma. Nonostante gli intensi controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Isernia, al fine di contrastare l'abuso di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, causa troppo spesso di terribili incidenti stradali, di recente si sono verificati due sinistri importanti. Alla guida dei mezzi coinvolti vi erano proprio due conducenti risultati positivi all'alcol test. Gli stessi, tra l'altro, avevano rifiutato i relativi accertamenti. Tuttavia, nel primo caso, una vettura con quattro persone a bordo, mentre percorreva un tratto di statale 17 del capoluogo Pentro, è uscita di strada e si è ribaltata. Tutti i soggetti coinvolti non hanno riportato lesioni gravi e le successive verifiche hanno consentito di stabilire che il conducente guidava con un tasso alcolemico superiore al consentito. Nel secondo caso, un veicolo si è ribaltato a macchia Godena. Il guidatore aveva la patente sospesa in seguito ad un provvedimento prefettizio ed una volta a soccorso è stato trasportato in ospedale riportando lesioni guaribili in 40 giorni. Infine, i militari hanno controllato un ulteriore soggetto ugualmente con un tasso alcolemico superiore al consentito. Tutti sono stati segnalati alla locale autorità giudiziaria per le relative determinazioni ed i loro veicoli sono stati affidati a terzi. Patenti di guida ritirata e sanzioni amministrative pecuniarie da 543 euro a 2.170 euro. Nella notte è avvenuto il decesso di Michele Adovasio, originario di Montorio nei Frentani, 49 anni, investito quattro mesi fa sulla strada provinciale che collega Larino ad Ururi. L'uomo era stato travolto a bordo strada da un'utilitaria che successivamente non si era fermata a prestare soccorso. Il 49enne Molisano è spirato nell'ospedale di San Giovanni Rotondo. Ancora un altro anno per trovare la soluzione giusta alla direttiva Bolkestan sulle concessioni a mare. Sospito di sollievo per i balneatori. Vediamo il contributo. La direttiva europea Bolkestan ogni anno tiene in apprensione la categoria dei titolari degli stabilimenti balneari sulle coste della penisola italiana. Un affanno che si ripete anche sulla riviera molisana e abruzzese che guarda all'Adriatico. Dal governo arriva la proroga di un altro anno per trovare i rimedi giusti alle difficoltà delle imprese. Confidiamo che questo governo possa aiutare ulteriormente la categoria e quindi fare in modo che ci possa essere una lungimiranza, cioè un periodo più lungo per la gestione delle concessioni dei maniali. Noi siamo fiduciosi e quindi il nostro presidente Capacchione ci informa quotidianamente dell'operato, del sindacato e della politica e quindi aspettiamo solo buone notizie. Aver spostato di un anno credo che possa essere un tempo utile per definire una strategia, c'è un modo per trovare questa soluzione che noi praticamente sono 15 anni che c'è questa direttiva a Bolkestein, quindi conviviamo con questa incertezza da troppo tempo e se vogliamo rendere le nostre spiagge di qualità, se vogliamo che gli imprenditori facciano degli investimenti, è naturale che c'è bisogno di un tempo congruo per poter ammortizzare gli investimenti e quindi aiuterebbe tutta la categoria ma aiuterebbe tutto il turismo italiano. Primi movimenti in vista delle elezioni regionali di giugno. A muoversi l'associazione Un Altro Molise è possibile che domani mattina a Campobasso annuncerà la partecipazione alla tornata elettorale in piazza prefettura alle ore 11. L'associazione intende restituire ai giovani la centralità che meritano. Ed ancora Un Altro Molise è possibile. Lavoro alla costruzione di un blocco sociale progressista centrato sui diritti di cittadinanza. La pandemia da Covid ha portato ad una riduzione delle persone che usufruiscono dei servizi della pubblica amministrazione. Sono diminuite le fila agli sportelli ma non sono aumentate le possibilità di utilizzare le tecnologie innovative. Secondo una recente indagine della Banca d'Italia, solo il 28% degli enti locali interpellati consente agli utenti di completare online le pratiche amministrative e se richieste di effettuare il pagamento via web. Nel Molise la percentuale è ancora più bassa. Tutto questo nonostante lo sforzo profuso in questi ultimi due o tre anni con l'introduzione del pagopà. Il grado di sofisticazione dell'offerta digitale delle amministrazioni locali rimane ancora insufficiente. La posta cartacea continua ad avere un utilizzo rilevante. Circa l'80% degli enti ne fa ancora ricorso nei rapporti con l'utenza, anche perché sono pochissimi cittadini a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata. Non solo, con una popolazione sempre più anziana e con poca familiarità con i prodotti tecnologici innovativi, è evidente che il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini deve comunque avvenire in modo graduale. Naturalmente a causa del Covid sono diminuite di molto le lunghe file agli sportelli, ma è mancato il dovuto meccanismo solutivo, quello dell'espletamento delle pratiche a distanza. Della cosa ce ne parla nel suo consueto appuntamento settimanale Paolo Zabbeo della CGA di Mestre. Sulla bassa qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione influisce anche uno scarso utilizzo delle tecnologie digitali. Meno di un ente locale su tre consente agli utenti di completare online le pratiche amministrative e, se richiesto, di effettuare il pagamento via web. Pertanto la digitalizzazione, lo scambio efficiente dei dati tra le strutture pubbliche e la standardizzazione delle procedure sono gli ingredienti fondamentali per favorire una vera innovazione della nostra macchina statale. La riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, un nuovo welfare per il territorio, appuntamento pomeridiano nella Sala della Costituzione. A Campobasso l'obiettivo è stato quello di comprendere i contenuti della riforma e l'ITER che sta seguendo perché la stessa rappresenti un'occasione unica per innovare il settore. Sopravvivenza delle edicole e rivendite di prodotti editoriali. È stata presentata in Regione una proposta di legge e promosso anche un avviso pubblico. Edicole sempre più assenti nei comuni molisani. Si tratta di attività ormai in crisi da troppo tempo e che in qualche modo necessitano di supporto per non scomparire definitivamente. A tal proposito l'assessore regionale Filomena Calenda ha presentato una proposta di legge con lo scopo di permettere l'ampliamento delle prospettive di sviluppo economico dei punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica, i quali potranno offrire un miglior servizio alla propria clientela con la vendita di ulteriori prodotti anche di natura alimentare che non necessitano di manipolazioni. Già altre regioni hanno legiferato in merito e consentire un allargamento del commercio purché quello prevalente rimanga legato alla vendita di quotidiani e periodici potrebbe davvero rappresentare una boccata d'ossigeno per il comparto. Intanto in Molise sono state promosse altre iniziative volte alla diffusione di prodotti editoriali. Il comune di Petrella Tifernina infatti ha pubblicato un avviso per concedere un contributo annuale pari a 450 euro per un massimo di 5 anni alle attività commerciali ricadenti sul territorio che vogliono ampliare la propria offerta e servizi con la distribuzione e rivendita di prodotti editoriali. A fine gennaio l'unico distributore di riviste quotidiani nel nostro comune ha dismesso l'attività poiché in procinto di andare in pensione e da allora in paese non arrivano più giornali, riviste e rotocalchi ha spiegato il sindaco Alessandro Amoroso. L'avviso pubblico è disponibile nella sezione Albo Pretorio del sito del comune di Petrella Tifernina. Il primo cittadino di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, a favore del rilancio di nuovi punti vendita di giornali e prodotti editoriali. L'amministrazione comunale Petrella e se intende in questo modo sostenere il mercato dell'informazione. Domani pomeriggio a Campomarino ci sarà la presentazione del corso di alfabetizzazione di lingua italiana e dei laboratori civico-linguistici e di conoscenza dei diritti. 19 gli stranieri beneficiari dell'iniziativa. Il progetto è stato approvato dal Ministero del Lavoro e rappresenta una proposta di dignità, qualità e di sfida. Torniamo sulla partecipazione del Molise alla Borsa Internazionale del Turismo a Milano, ascoltando la dirigenza della Confederazione Agricoltori, che attraverso la filiera di Fare Turismo Verde ha portato numerose proposte. Si è conclusa l'edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo a Milano. Tanti buyer nazionali che hanno voluto vedere da vicino l'offerta proveniente dal Molise. Successo anche per la Confederazione Agricoltori Italiani della Regione, che ha partecipato con 12 aziende agrituristiche, tutte diverse tra loro, del circuito della filiera del turismo verde. La nostra associazione presenta al suo interno circa 20-25 aziende agrituristiche. Per noi è come un bambino che apre uno scatolo pieno di giocattoli. Per noi questo è il nostro habitat naturale. Tutte le aziende della nostra associazione per questo evento hanno preparato dei pacchetti turistici che li proponiamo agli buyers sia nazionali che internazionali. Siamo venuti ieri sera e andremo via mercoledì, quindi ci faremo tutti e tre i giorni qui alla BIT. Nei locali della Fondazione Molise Cultura a Campobasso, domani alle ore 18, il Lions e il Rotary Crab e il Centro Studi Molisano presenteranno il libro Misterium Magnum tra Sacro e Profano di Giuseppe Ruta, un'iniziativa voluta per dare lustro alla storia, culture alte della città capoluogo. E' sempre per la città capoluogo che si va ad inserire all'iniziativa Mi Illumino di Meno, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Domani alle 18.30 lo spegnimento simbolico delle luci del municipio e del castello Monforte. Fin dal 2005 esiste in Italia una manifestazione che ha per titolo, parafrasando un verso di una poesia di Giuseppe Ungaretti, Mi Illumino di Meno, quella che attraverso un decreto legge dello scorso anno è diventata di fatto la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. L'iniziativa, fin dall'inizio, è stata promossa e sostenuta da una trasmissione radiofonica Caterpillar che da sempre si occupa delle pratiche sociali, culturali ed ambientali. Il Comune di Campobasso anche quest'anno ha aderito e lo ha fatto nella convinzione che bisogna attivare le azioni giuste, sia piccole che grandi, perché sia da sprone per salvare il pianeta. Alle 18.30 di domani, Campobasso vedrà spegnere le luci del Palazzo di Città e del Castello Monforte in un'azione simbolica che però si accompagnerà alla messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, alla installazione di nuove casette per pipistrelli in parchi cittadini e all'inaugurazione di una compostiera presso l'orto didattico della Scuola Iovine in via Friuli Venezia Giulia. Bisogna dire che l'amministrazione comunale del capoluogo da anni sta occupandosi della transizione ecologica attraverso importanti interventi destinati al risparmio energetico e alla produzione energetica da fondi rinnovabili. Ancora a Campobasso domani alle 17.30 verrà presentato al Museo Sannitico il volume Fuori Porta itinerari a due passi dalla città di Andrea Angelucci. L'autore, ma anche guida turistica e archeologo, dialogherà con la giornalista Miniam Iacobo Antuono sul turismo fuori porta soffermandosi sugli itinerari molisani. Adesso spazio come ogni giorno al meteo. Metal impianti, carpenterie metalliche civili e industriali, scale, acciaio corten, serramenti in alluminio, PVC e legno alluminio. Metal impianti Boiano. Info 0874 77 34 54. Gruppo Zulli dal 1975 con oltre 50.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti in pronta consegna a prezzi di fabbrica. Zulli ceramiche a città Sant'Angelo e nei pressi di Mondo Convenienza. Aperti tutti i giorni, compresa la domenica. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salmo. Cielo ampiamente soleggiato oggi su Molise-Abruzzo, stellato dalla sera. Le temperature sono previste dalla minima di 4 gradi a Campopasso fino ai 15 di Isernia per il Molise e da un grado di terramo alla massima di 15 gradi all'Aquila. Ventilazione debole da nord, poco mosso il medio adriatico. Sulle due regioni domattina, tempo ancora stabile. Valori atmosferici, stazionari, correnti settentrionali. T.L.T. in rete Per la pagina sportiva iniziamo dal calcio. Il Campopasso 1919 non va al di là dello 0-0 casalingo contro il San Buceto nella gara d'andata del turno nazionale di Coppa Italia. Diverse le occasioni mancate nel corso dell'incontro. Fra una settimana il ritorno in Abruzzo. Dalla Selva Piana per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia si affrontano Campopasso e San Buceto. Il lupo torna a giocarsi un match di livello nazionale. Lo fa quest'oggi appunto contro il San Buceto in questa andata degli ottavi di finale di Coppa Italia di Lettanti. Il traversone di potenza. Palla che arriva in mezzo, Franchi. Traore si accentra Axel Traore. Franchi. La conclusione di Franchi col mancino di Donato. Attento, anche abbastanza centrale la conclusione di Filippo Franchi. Infatti il Campopasso fa fatica a creare gioco, a creare azioni, a trovare proprio gli spazi giusti. Guillari che va a prendersi adesso questo pallone. la conclusione di Guillari, il tiro un po' troppo smorzato. Il traversone di fazze sul secondo palo. Cavallini di testa! Si era fatto vedere Cavallini di testa. Abbandona il campo Bratelli con l'applauso dei presenti qui alla Selva Piana. Cascione per Banzane. Banzane, il pallone buono per Trori. Trori che la rimette dentro. poteva andare alla conclusione Traore. Albino fazze dalla bandierina. Eccoli il traversone del capitano. Palla che arriva all'ina in mezzo. Traore! Traore! Pallone alto sopra la traversa. L'appoggio di Marfisi. Ragneri. Se ne va Ragneri. La conclusione di Ragneri in due tempi. Pinto. Che adesso attacca in area di rigore. Il pallone che attraversa tutta l'area di rigore. Che brivido. Che brivido per il campo basso. Lo scambio con Franchi. È partito nella corsa. Sulla corsa e sulla fascia Cascione. Pallone in mezzo. Potenza cerca di anticipare. Rodia anche se il pallone è ancora per gli abruzzesi. La conclusione di Rodia. Anche Cascione. La traversone di Franchi. Guillari col piattone. Guillari davanti alla porta. L'aveva anche colpita questa palla. Elude l'intervento di un avversario. Traore. Ancora Traore. Cevanzan nello spazio. Era buona l'idea. La conclusione poi di Guillari. Col destro. Non l'ha colpita benissimo. E Potenza. A prendere l'area in corsa sul secondo palo. dove c'è Di Donato che non ha problemi. Palla che arriva al compagno. La conclusione. Il Mancino poi. Di Sparvoli. Il pallone che si stampa all'esterno della rete. Adesso il Sambuceto. Con il tiro dalla distanza di Camplone. Potenza. La mette dentro. Potenza. Franchi di testa non la prende. Non ci arriva. Che brivido. La montagna. La conclusione dalla distanza di La Montagna. Il pallone che non preoccupa chiaramente Di Donato. Vanzan. La mette dentro. Vanzan. Lombari. Tizzani sul secondo palo. Tizzani sul secondo palo. Scivola. Ancora la montagna col pallone. Si avvicina. Ha la porta. Il destro di La Montagna. Rimpallata la conclusione. Il tocco corto. Potenza. La mette dentro. Non arriva a nessuno. Vediamo a raccogliere. La conclusione di La Montagna. Con l'esterno. Ciccio Potenza. Con la testa. Debole però. Di Donato. Don Albino Fazio. La mette dentro. Fazio. La testa. Di Jojo. Pallone alto. Sopra la traversa. La conclusione. Di Potenza. Potenza. La palla è per Lombari. Può andare in contropiede dal campo basso. Lo fa con Lombari. Si fa vedere Tizzani. 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 Davanti alla porta. Tizzani. 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 Uno contro uno. Tizzani. Tizzani. Che cosa si è mangiato Tizzani? Che cosa si è mangiato Tizzani? Davanti alla porta. Uno contro uno col portiere. Finisce qui. E' 0 a 0 tra il Campobasso e il Sambuceto per questa andata degli ottavi di finale. Saliamo di categoria. L'Avezzano torna a vincere sul proprio terreno di gioco nel campionato di calcio di serie D. 1 a 0 nel derby contro il Chieti. Amaro in bocca per i Chietini che tornano a casa senza bottino dopo aver combattuto avviso aperto per 95 minuti. Mister Scorsini ritrova Dos Santos e Zanon ma deve fare a meno di Sisse squalificato. Formazione al 90% rimaneggiata dal tecnico Chietino Chianese che paga le numerose assenze con il nea acquisto Anticoli classe 2003 davanti a trascinare la squadra. Al minuto 21 calcio di punizione per il Chieti battuto da Vaccaro classe 99 direttamente in porta. I guantoni di Coco intercettano e bloccano. Tre minuti dopo ancora un calcio piazzato per i Nero Verdi sul pallone il vicecapitano Paglia che calcia troppo alto sopra la traversa. Al ventisettesimo protagonisti ancora gli ospiti con Mercuri che ruba palla a Donatangelo e si invola verso la porta avversaria. Tiro fiacco ed impreciso. Due minuti più tardi tocca all'Avezzano prima vera occasione per i Biancoverdi con Pellecchia che crea un corridoio importante per il 2002 Corrado che scivola e spreca una ghiotta occasione. Brivido per il Chieti al trentunesimo con il portiere Nero Verde Serra che salva sulla linea di porta il destro al volo di Filosa mantenendo così salvo lo 0-0. Sul finale della prima frazione di gioco il neo acquisto Chietino classe 2003 Anticoli tenta il colpo con un tiro che di poco esce risultato fermo sullo 0-0 e giocatori a riposo. A rientro dagli spogliatoi è il Nero Verde Mercuri che tenta il tiro che si spegne al lato del pallone. Al diciassettesimo punizione per l'Avezzano con Paris che aggancia bene il cross di Zanon ma non trova la porta. Di ancora Chieti pericoloso con il subentrato Riosa che tenta il colpaccio ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Quando tutto sembrava ormai scritto l'Avezzano da calcio piazzato sblocca il risultato sullo scadere dei 90 minuti. Cross di Zanon nella mischia intercettato dal subentrato Oxa che la infila nell'angolino destro. Non succede più nulla da segnalare solo al 48esimo l'espulsione del bianco-verde-negro per doppio giallo. Torniamo adesso al calcio regionale. Nel torneo di promozione prosegue il momento felice per la giovane formazione della Juvenes Campobasso. Vittoria ai tre punti sul campo del Trivento. Una Juvenes determinate battagliera vede sempre più vicina la zona play-off e affonda un Trivento che deve seriamente incominciare a guardarsi le spalle nel pantano della zona retrocessione. Granitto della sezione di Termoli e il fischietto chiamato a dirigere il confronto in un pomeriggio freddo al comunale Trignino. Prima del fischio d'inizio le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del sisma in Turchia e Siria. E' uno striscione stato srotolato per ricordare l'amico Cristiano Paparella che ci ha lasciato tragicamente solo pochi giorni fa. I gialloblu locali partono come sempre a sprombattuto e con il tutto fare cioccia. Impatta l'incrocio dei legni dopo appena quattro giri di lancette. I ritmi sono da subito molto vivaci su entrambe le barricate. Nicola Di Blasio trova spazio sul binario Mancino, sferallato da posizione quasi impossibile dopo meno di un quarto d'ora. La giovane formazione rosso-blu affidata alle cure di Claudio Di Niro si vede solo al trentesimo. Grazie ad una trama prolungata ma né Arco né Azizà trovano il modo di superare il portiere di casa Minichillo. La squadra del tecnico Lorenzo Viglione volitiva ma spuntata lo dimostra il centrocampista Iocca che si mette in proprio al tramonto della prima frazione. Nel sinistro a giro non impensierisce più di tanto Roberti. Al cambio di campo la Juvenes modifica l'assetto in mediana e attacco. Ciararierlo e compagni tirano fuori gli artigli. Dopo solo i pochi secondi dalla ripresa delle ostilità Di Maio fallisce l'impossibile sulla travolgente cavalcata a destra di Laudizio. Al nono minuto il centravanti Arco si veste da uomo assist fuori di un nulla il Mancino dell'esterno Laudizio dall'interno dell'area avversaria. E' il preludio al vantaggio ospite che si concretizza 120 secondi dopo sulla ripartenza di uno scatenato Laudizio. Minichillo è superato. Il Trivento si riorganizza ma non è neanche fortunato. Cioccia a giro sul calcio piazzato trova la traversa per la seconda volta al minuto 18. Scampato il pericolo la Juvenessa fonda il colpo di grazia. Contropiede tre contro due soli difensori. Arco appogge per Magri appena entrati in campo. Il gioco è fatto 2-0 per gli ospiti al 27esimo. I locali non hanno più idee gamba per la svolta. Anzi finiscono la contesa in dieci per il rosso diretto estratto dall'arbitro Granitto per Zullo. La nuova classifica dice Juvenessa a 32 punti al ridosso della zona che conta. Per il Trivento continua invece il calvario di una discesa tecnica e atletica sempre più preoccupante. Siamo in chiusura di telegiornale. La società H2O ottiene il secondo posto al trofeo nazionale. Le naia di nuoto svolto nella piscina di Pescara alle spalle degli abruzzesi della società SDS. Luca Angelilli nei 100 metri rana ottiene il record regionale assoluto. Tra le donne invece Sofia Cavina centra la qualificazione ai campionati italiani nei 50 metri stile libero e 50 farfalla. Grazie per aver seguito la nostra informazione. Arrivederci.